buongiorno a tutti oggi voglio con voi realizzare questa bellezza foglie però questa si può usare come con polsini oppure decorazione per legone per bambini stesse cose io ho fatto con questa maniera guardate però io ho pensato può darsi anche qui si può mettere perlino così allora adesso io vorrei fare con voi questa io ho fatto con mia maniera io faccio vedere anche altra maniera però prima io faccio vedere con quale maniera allora come io qui ho fatto motiva 3 rovescio 5 diritti invece per esempio come voi fate gonna voi fate e liscio oppure quali quali motiva e dopo vanno foglie questi foglie adesso noi dobbiamo fare questi fare queste foglie faccio vedere adesso io faccio vedere schema di questi foglie qui solo una schema come voi vedete otto malie e dopo quando cominciamo a fare foglie sempre aggiungiamo così diventa come come onda come volane e 15 su 15 15 questa noi dobbiamo già chiudere come ho fatto io qua guardate noi abbiamo fatto dal sopra guardate dal sopra e qui dobbiamo chiudere bisogno a stirare però io non mi ho stirato perché dovrebbe essere con così con dentine come foglie io ho fatto così ho messo un po perline come decorazione per vedere una idea dopo mille persone mille idee unica cosa io ho scardata io mettere anche qua anche qua perlino va bene allora questa questa motiva allora questa spiegazione guardate questa spiegazione però qui non c'è qualcosa di novità già questi movimenti voi tutti tutti sapete questa rovescia questi diritti questa ungitato e adesso cominciamo allora questa questa io ho sposto ecco e cominciamo fare insieme allora questa io ho fatto esempio perché prima io ho fatto vedere e adesso idee cosa tutta va liscio tutta va diritto e adesso dobbiamo preparare per foglie cosa vuol dire prima giro noi facciamo noi facciamo tutti male di rovescio questo mio famoso bordino guardate questo bordino e questi tutti vanno rovescio tutti vanno rovescio 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 fino a rovescio 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 fino a rovescio dal parte di rovescio facciamo tutti i diritti tutti facciamo diritti questo luogo perché noi facciamo che noi facciamo insieme con voi due motivi uguali tutti vanno diritti allora abbiamo preparato allora abbiamo preparato cominciamo prima giro prima questi tre come sempre mio bordino e cominciamo motivo tre rovescio tre rovescio uno rovescio seconda rovescio terza rovescio cinque diritti uno due tre quattro cinque abbiamo cuocci ultima e quindi per esempio ti ho sentito le due 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 quattro, cinque. Abbiamo finito il lucchetto e qui io ho preso tre maglie per simmetria. Uno, due, tre maglie, rovescio per simmetria e bordino. L'ultima è sempre rovescio. Giriamo parte di rovescio e facciamo come guardano le nostre maglie, dove diritti, diritti, dove rovescio, rovescio. Ecco, questi tre diritti, questa simmetria e questo è il nostro motivo. Cinque rovescio. Uno, due, tre, quattro, cinque, tre diritti. Uno, due, tre, tre. Continuiamo. Abbiamo fatto giro due. Adesso, no, questa abbiamo preparazione. Adesso facciamo il nostro primo giro. Questa abbiamo solo preparazione. Uno, due, tre, rovescio. Cominciamo. Una, diritto, secondo diritto, un gettato, un gettato, due diritti. Abbiamo finito il primo motivo. Continuiamo. tre rovescio. Uno, due, tre, una, diritto, secondo diritto, un gettato, diritto, un gettato, due diritti, uno, due. Abbiamo finito. Questa tre simmetria. Parte di rovescio facciamo da sole. Abbiamo finito giro due. Cominciamo giro tre. Queste tre male non mica centro con motivo. Tre rovescio. Uno, due, tre, tre diritti. Uno, diritto, secondo, terza. Un gettato, diritto, un gettato, tre diritti. Uno, diritto, seconda, terza. Abbiamo fatto il primo motivo. Uguale facciamo anche qua. L'ho messo apposta per ragazze, per nuove, quali non ce l'hanno esperienza, così non sbagliano. Però qui non si può sbagliare perché qui rovescio. Tre rovescio. Uno, due, tre diritti. Un gettato, diritto, un gettato, tre diritti. Uno, due, tre. Questi tre per simmetria. parte di rovescio facciamo da sole, ragazzi. Quattro abbiamo fatto. Adesso facciamo il giro cinque. Tre rovescio. Uno, due, tre. Cominciamo il nostro motivo. Uno, due, tre, quattro. Un gettato, diritto, un gettato, un gettato, quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. Ci vede già cominciato a vedere la nostra foglia. Allora, altro motivo è sempre lo stesso movimento. Tre rovescio, quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. Un gettato, diritto, un gettato. Uno, due, tre, quattro. Allora, abbiamo finito. Parte di rovescio facciamo da sole. Allora, abbiamo fatto giro sei da sole. Voi ricordate, nelle parti di rovescio dove diritti, diritti, dove rovescia, rovescia. Non cambia niente. Tutto il motivo facciamo da parte di diritto. Giro sette. Uno, due, tre, rovescia. Diritti, diritti. Cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Un gettato, diritto, un gettato. Cinque diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ripetiamo. Tre rovescio. Uno, due, tre, quattro, cinque. Un gettato, diritto, un gettato. Uno, due, tre, quattro, cinque. Tre rovescio per simmetria. Parte di rovescio, ragazze, come guardano male, facciamo da sole. Abbiamo fatto giro 8, facciamo da sole. 9 caminciamo questo bordino caminciamo 3 rovesci 1 2 3 questa parte cambia abbiamo fatto 3 rovesci 2 insieme verso sinistra 1 2 3 4 un gitato diritto un gitato 1 2 3 4 queste le ultime due dobbiamo girare e dobbiamo fare due insieme verso a destra abbiamo fatto questa leuchetta non è che bisogna vero ragazzi ci vedo qui subito 3 rovesci 1 2 3 altra motiva ripetiamo come abbiamo fatto prima 2 insieme verso sinistra 4 diritti 1 1 2 3 4 un gitato diritto un gitato 4 diritti 1 2 3 4 giriamo le ultime queste due giriamo e facciamo insieme verso a destra abbiamo fatto guardate devono guardare dentro 3 rovesci per simmetria e parte di rovescio facciamo da sole giro 10 abbiamo fatto da sole facciamo giro 11 questo bordino 3 diritti rovesce 3 rovesce 1 2 3 2 insieme verso sinistra guardate 4 diritti 1 2 3 4 un gitato diritto un gitato 4 diritti 1 2 3 4 questi due e l'ultimo diritti giriamo e facciamo insieme verso a destra abbiamo fatto ripetiamo 3 rovesci questo nostro folino cominciamo a stringere facciamo insieme verso sinistra 4 diritti 1 2 3 4 un gitato diritto un gitato 4 diritti 1 2 3 4 queste le ultime due giriamo e facciamo insieme verso a destra abbiamo fatto 3 per simmetria ragazze parte di rovescio facciamo da sole abbiamo finito giro 12 cominciamo giro 13 questo bordino 3 rovesci 1 2 3 2 insieme più vicino per vedere 2 insieme verso sinistra 1 2 3 3 4 diritti un gitato diritto un gitato 4 diritti 1 2 3 4 questi e le ultime due giriamo facciamo facciamo insieme verso a destra ripetiamo 3 rovesci 2 insieme verso sinistra 4 diritti 1 2 3 4 un gitato diritto un gitato 4 diritti 4 diritti questi due giriamo facciamo insieme verso a destra 3 rovesci per simetria parte di rovescio facciamo da sole allora abbiamo fatto ragazze motivo abbiamo quasi finito adesso dobbiamo fare finire come fate io così come bordino io posso cancellare come faccio come faccio io allora parte di diritto io faccio tutti di rovescio tutti rovescio tutti di rovescio ci vediamo ragazze nella parte di rovescio abbiamo fatto una parte di diritto giro 15 questa giro 16 questa tre bordino e cominciamo facciamo una rovescio una diritto rovescio diritto rovescio diritto rovescio diritto e così fine nel fino fatte così ci vediamo prossimo giro fate da sole allora parte di rovescio abbiamo fatto una per una adesso cominciamo chiudere io chiudo con questa maniera questa io sposto parte di diritto io faccio un gittato faccio diritto e questi tutti due cavalco prima una dopo altra parte di rovescio io faccio così giro e chiudo e anche così un gittato si può fare anche così un gittato diritto un gittato cavalco sopra di maglia e dopo altra parte rovescio rovescio un gittato cavalco sopra e anche maglia altra guardate tenete stretta un gittato diritto e così continuiamo allora siamo arrivati a finale io ce l'ho diritto guardate e l'ultima rovescio e abbiamo finito adesso voi nella questa onella mettete questa lana questo filo e così diventa bloccata io non voglio bloccare allora abbiamo fatto guardate questa deve venire anche da voi e adesso voi decidete chi bisogna con questa maniera chi bisogna con questa maniera io tendo parte di di sciopra si può fare anche come come polsine secondo me anche così non va male e anche questa cosa abbiamo fatto a noi però forse non entro mia mano perciò questa venuta io ho fatto così più più grossa quando voi lavate e stirate e dopo vedrà anche come questa però forse chiusura di maglia forse qualcuno c'è l'altra maniera io ce l'ho anche altra maniera però mi sembrava questa venina più bella mi sembra questa così venina più bella perché qui più grossetina però si può fare anche più ciotile mille persone mille parere mille gusti perciò è così ragazzi la ringrazio tanto io auguro voi buon salute e fortuna anche a me